E si è concluso ieri presso la sede della Croce Bianca di Andorra il primo torneo estivo di ping pong. Si tratta di un torneo amatoriale riservato ai volontari della Croce Bianca, ai turisti e ai residenti di Andorra. Dopo tre giorni di gare si è classificato primo Franco Guaschi, residente a Monza, che ha vinto per 3 a 1 la finalissima contro Roberto Ciccione. Terzo in classifica è stato proprio il direttore dei servizi della Croce Bianca di Andorra, Domenico Salati.